Ciao a tutti ragazzi, eccomi tornata! Oggi sono particolarmente contenta perché vi parlo della mia prima collaborazione e si tratta di questa azienda, Ringana e mi sono stati mandati un kit viso circa 3 settimane fa e si tratta di un brand austriaco che basa i suoi punti di forza sui prodotti, sugli ingredienti naturali, su un imballaggio ecologico e sul non testare i prodotti sugli animali Detto questo vi lascio nel box informazioni il link alla preview che feci sul blog e ovviamente al sito di cui vi sto parlando Come vi ho detto a me è stato mandato questo kit per pelli miste sono stati gentilissimi e velocissimi e questo kit va a ripercorrere le fasi fondamentali per un'ottima pulizia del viso e vi dico subito che sono tutte le mini size ve le faccio vedere sono queste qui caduta e sono onesta appena mi è arrivato ho detto bah secondo me non mi durerà più di una settimana conoscendo quanto prodotto io cioè no purtroppo però penso sia un po' così per tutte devo andare ad usare per struccarmi vi dico che sono passate ormai 3 settimane stanno finendo ma non sono ancora finiti quindi sono rimasta piacevolmente sorpresa inizio appunto parlando dal primo step che è quello del latte detergente ed è Cleasing Milk non so quanto riusciate a vedere e vi dico la verità io non ho mai trovato un latte detergente che mi struccasse e che mi facesse saltare lo step dello struccante occhi perché magari mi andavo a struccare sì un po' la base ma per quanto riguarda ombretti soprattutto mascara non mai nulla insomma invece questo mi sono segnata qualcosina sugli ingredienti da dirvi sono molto professional questo mi ha piacevolmente stupito perché a parte che ha un odore buonissimo e non so nemmeno definirvelo proprio un odore naturale e ne basta davvero poco e gli occhi sono struccati alla perfezione vi lascio una foto se la ritrovo perché ce l'ho tipo sparsa nel telefono e l'ho provato la prima sera che avevo fatto uno smokey eyes un insomma un trucco abbastanza intenso e cioè ho bastato un goccio mi ha struccato alla perfezione sono rimasta tipo wow ovviamente senza bruciare gli occhi è delicatissimo e mi è piaciuto davvero davvero tantissimo mai provato un latte detergente così secondo step ah no mi dimenticavo ho pure il quaderno sotto poi e volevo dirvi ci sono ingredienti naturali come ad esempio la calendula l'olio di jojoba il ginkgo biloba quindi comunque sono tutto tutto a base di ingredienti naturali si sente tantissimo dall'odore io ho gli occhi delicatissimi e me ne sono accorta perché comunque non mi hanno dato alcun fastidio il secondo step è quello del tonico che come vedete ce n'è ancora un pochino meno di metà e si chiama Facial Toner S S perché ce ne sono di due tipi S che appunto è stato mandato a me per pelli miste o grasse e poi c'è il tonico L per pelli invece secche o normali questo niente da dire è un tonico normalissimo anche questo ha un odore buonissimo rinfresca tantissimo la pelle elimina gli ulteriori residui di trucco e la lascia freschissima poi il terzo step è quello del siero che io dico che onestamente non ho mai usato prima di questa collaborazione perché ogni volta che provavo ad usare dei sieri non mi piacevano perché mi lasciavano la pelle unticcia e li sentivo pesanti sulla pelle quindi andavo direttamente allo step della crema invece questo mi ha fatto ricredere si chiama Hydro Serum infatti come vedete questo è anche più piccolino degli altri anzi quella era la crema più piccolina degli altri questo è il latte detergente e proprio perché ne bastano davvero due goccine per diciamo massaggiarlo su tutto il viso e si assorbe in frettissima lascia la pelle davvero davvero morbida e non lascia assolutamente la pelle unta e per me questa è davvero una gran cosa perché ho detto altri sieri che avevo provato così non mi avevano mai convinto a comprarne uno perché lo vedevo anche uno step un po' inutile se devo essere sincera invece effettivamente prepara la pelle alla crema la rende morbidissima la nutre in profondità e questo è adatto a tutti quanti i tipi di pelle ultimo step è appunto la crema una crema concentrata questa ragazzi ha un odore che vi dure è buonissimo questa forse è quella che sta affinando più di tutti perché è rimasta proprio alla fine è una crema molto idratante anche questa che si assorbe in fretta va un pochino di più lavorata rispetto al siero ma si assorbe comunque in fretta lascia la pelle è morbidissima e profumatissima e io diciamo questo kit l'utilizzo la sera quando mi strucco e alla mattina ho la pelle morbidissima fantastica quindi assolutamente promosso nella crema sono contenuti anche qui olio di jojoba aloe vera olio di macadamia quindi tutti tutti olio essenziali prodotti naturali niente questa è diciamo la mia opinione su questi prodotti e vi consiglio di fare un giro nel sito e vi dico anche comunque di tenere in considerazione che se magari i prezzi possono sembrare un pochino alti fate conto che io con queste provette che sono da 15 ml 10 cade 10 ml 5 ml 15 ml sono 3 settimane che li uso tutte tutte le sere e ancora non sono terminati quindi cioè sinceramente ne vale assolutamente la pena niente ragazzi fatemi sapere se per caso avete già provato questi prodotti e vi invito a fare un salto nel sito e niente ci vediamo al prossimo video ciao ciao